Appurate le incongruenze da parte del Tar Campania, sezione di Salerno, nei verbali risultanti dalle votazioni del 12 giugno scorso ad Agropoli dopo i due ricorsi proposti dal consigliere di minoranza Raffaele Pesce e dal rappresentante della lista Liberi e Forti, Arturo Farese, rappresentati dagli avvocati Elio Cuoco e Antonello Scuderi. I giudici hanno disposto con apposita ordinanza la verificazione sulle operazioni elettorali del 12 giugno ad Agropoli, il controllo di informazioni e dati per la verifica delle schede avverrà da parte della prefettura di Salerno e interesserà 19 sezioni su 21. A spiegarci nel dettaglio l'ordinanza emessa dal Tar Campania, sezione di Salerno, è l'avvocato Antonello Scuderi. Con questa ordinanza sostanzialmente si è chiuso il primo round del ricorso al Tar. Il consigliere Pesce ha lamentato una serie di irregolarità che risultavano dai verbali, delle irregolarità che se accertate realmente potrebbero riportare alla nuova votazione, in tutto e in parte, soltanto in alcune sezioni oppure se dovessero essere così pervasive come risultano dai verbali potrebbero portare addirittura alla rinnovazione totale della tornata elettorale. In effetti le contestazioni mosse riguardavano 20 sezioni su 21. Il Tar ha disposto la verificazione su 19 delle 20 sezioni contestate. Aver individuato delle ragioni di perplessità, perché altrimenti non avrebbe fatto questo tipo di ordinanza su 19 sezioni significa che qualcosa oggettivamente non ha funzionato in tutto il complesso delle operazioni elettorali. È un bel dire che si tratta soltanto di piccole irregolarità. Se fossero state piccole irregolarità sarebbero state superate già in questa fase da parte del Tar. Viceversa, il Tar vuole vedere le carte. ha dato mandato al prefetto di Salerno, io presumo sarà nominato come commissario un viceprefetto e nel giro di un mese dovrà svolgere l'attività istruttoria. Quindi questo è su 20 sezioni e emergono dai verbali, quindi non sono fandoni e nessuno immaginazioni del ricorrente dell'Avvocato Pesce, emergono delle irregolarità che potrebbero portare alla ripetizione della tornata elettorale. L'ente comunale Città di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutali Passi, invece sembra essere di parere differente, tant'è che in una nota stampa pubblicata nella giornata del 26 ottobre 2022, scrive, il Tar Campania, sezione di Salerno, nell'udienza del 26-10-2022 si è limitato a disporre una mera verifica burocratica dei verbali al fine di appurare la corrispondenza tra schede consegnate ad ogni sezione e schede restituite. Non ci sarà un riconteggio delle schede, una per uno. Una procedura quindi che non investe i voti attribuiti alle liste dal sindaco eletto, che non sono stati mai contestati e non sono oggetto di accertamento istruttorio. Ho letto la nota, ora apprendo che è una nota che esce dall'ufficio del sindaco. Mi permetterei di dire di essere un po' più cauti quando si scrivono queste cose, perché il Tar non ha riammesso semplicemente una verifica formale sui verbali. Se fosse vero questo potrei dire tranquillamente che già si andrà a votare, perché dai verbali le cose non risultano essere corrette. Il Tar ha messo a verifica su 19 delle 21 sezioni delle schede elettorali. Noi non abbiamo mai chiesto il riconteggio dei voti, ma il riconteggio delle schede per verificare se c'era o meno la corrispondenza richiesta dalla giurisprudenza. Che significa corrispondenza? Capiamoci. Se io ho bollato mille schede, ho firmato e vidimato mille schede e ne hanno votato 600 persone, io devo avere nell'apposita busta 400 schede vidimate ma non utilizzate. Dai verbali risultano numeri diversi e in alcuni casi non c'è neanche l'indicazione dei numeri residui, in alcuni casi non c'è neppure l'indicazione di quante siano state le schede vidimate. Non c'è nulla, almeno in quattro verbali delle quattro sezioni su 21. Dopodiché c'è un altro passaggio che fa il Tar. Vuole sapere se il numero dei votanti corrisponde davvero al numero delle schede votate, poiché nei verbali questa corrispondenza non c'è. Presumo che siano su sei sezioni, posso anche vedere l'ordinanza e dire in modo specifico quali siano le sezioni, ma non è questo il problema importante. Come pensare che questa operazione non possa essere fatta se non attraverso la verifica delle schede e quindi il riconteggio delle schede? L'elemento che ha portato il Tar a dire c'è bisogno della verificazione sono i verbali, quindi è inutile andare a rivedere i verbali, quelli già attestano che le cose non sono andate bene. Il Tar vuole vederci chiaro fino in fondo. D'altra parte noi abbiamo sempre detto questo, si è potuto trattare di un errore come si è potuto trattare non di un errore ma di una irregolarità viziante. Come potremmo saperlo questo? Solo attraverso la verifica. La verifica significa verificare le schede, cioè contare una per una le schede. Quindi qual è il problema semplicemente formale di una verifica all'interno dei verbali? Non scrivano cose che non stanno né in cielo e né in terra, anche perché quando una nota proviene dalla casa comunale deve essere una nota che chiarisca le cose, ma che non cerchi di mistificare le cose. Il dato è certo. Faccio un esempio per tutto. Com'è possibile che il Tar abbia richiesto una verifica sui verbali se in tre sezioni non c'è nulla sui verbali? È evidente che in quelle sezioni dovremmo andare a vedere le schede. Com'è possibile che il Tar abbia richiesto su sei sezioni la verifica della corrispondenza tra le schede votate, il numero dei voti, comprensivo anche delle schede bianche e nulla, se questa corrispondenza non c'è già sui verbali? È chiaro che dobbiamo andare a vedere. Vedere significa contare una per una le schede. Dunque è stato accolto totalmente, almeno sull'aspetto preliminare, poi verificheremo quello che c'è all'interno dei plichi, è stato accolto il nostro ricorso per intero che voleva verificare che cosa realmente è accaduto durante il procedimento elettorale ad Agropoli. Questo è, quindi altro che formale, si va nella sostanza e laddove dovessero emergere elementi di corrispondenza con le cose che abbiamo detto e con le cose che sono già scritte nei verbali, si arriverà all'annullamento delle operazioni elettorali in quelle sezioni. Quindi è un fatto serio, importante, non è un fatto minimale. Minimizzare non serve mai a nulla. Può darsi pure che non si sia accaduto nulla. Può darsi pure che si sia trattato soltanto di errori materiali, ma questo lo dobbiamo verificare. Alla verifica potremmo dire come stanno le cose. La verifica significa riconteggio delle schede, non dei voti, non l'abbiamo mai chiesto i voti. Bisognerà attendere fino all'8 febbraio per capire come sono andate realmente le cose? Mi permetto di dire che probabilmente l'attesa sarà molto più contenuta. L'8 febbraio ci sarà la decisione del Tar. Il Tar ha dato un mese di tempo al verificatore per compiere le proprie operazioni. Quindi nel giro di un mese, prima di Natale, sicuramente sapremo che cosa c'è all'interno di quei plichi. E su quello già si potrà fare un punto di confronto e di verifica. ovviamente poi è chiaro che a stabilirlo dovrà essere il Tribunale. Ci sono delle tesi contrapposte che sono state articolate da noi e dai resistenti. Sarà il Tribunale a dover decidere e sono convinto che sicuramente poi ci sarà il giudice di appello che sarà investito della questione. Chiunque vinga e chiunque perda, talvo che dalle carte non escano elementi così chiari che inducano le parti a capire che anche l'appello potrebbe essere del tutto inutile. Io non penso che questo sia. Io sono convinto che l'8 febbraio, il 9-10 massimo, sarà pubblicata la sendenza, subito dopo si farà dall'uno o dall'altra parte ricorso in appello. Noi partiamo da un dato. Un Tribunale della Repubblica Italiana ha ritenuto sussistenti le incongruenze, formalmente sussistenti le incongruenze che noi abbiamo inserito nel ricorso, tanto è vero che ammette la verifica su 20 sezioni. Questo è il dato da cui bisogna partire. Su 19 sezioni chiedo scusa. 19 sezioni su 21, se mi consentite, sono tantissime, sono tantissime.